Ciao, io sono Jessica, mi sono laureata all'Università dell'Insubria in Fisioterapia e oggi mi occupo di fisioterapia respiratoria nel reparto di pneumologia di un ospedale pubblico. Grazie al corso di laurea ho scoperto che la fisioterapia ha mille sfaccettature diverse e ho potuto svolgere tirocini professionalizzanti nei vari ambiti in diverse strutture della nostra zona. Tutto questo mi ha aiutato a capire che lavorare in ospedale ma soprattutto in ambito respiratorio era proprio quello che mi piaceva fare. Ho avuto l'opportunità prima di imparare da colleghi che hanno saputo guidarmi e ispirarmi e poi ho avuto anche la fortuna di lavorare fianco a fianco con molti di questi.